Un'intera giornata per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle difficoltà che i disabili incontrano muovendosi nelle varie città italiane. Si chiama superabile la manifestazione in programma questa domenica a Castelnuovo Garfagnana. Cinque squadre di disabili si muoveranno per le varie zone di Castelnuovo con lo scopo preciso di segnalare e raccontare, attraverso un video, le barriere presenti in città. Il ruolo sarà quello di verificare le barriere architettoniche. Io farò un capogruppo di alcuni ragazzi, si farà un giro per il centro storico dove vedremo le problematiche delle barriere architettoniche. Quindi l'interesse è quello. Poi di tutto questo che viene fatto verrà fatto un video e verrà realizzato un video per far vedere la gente e sensibilizzare la gente per le barriere architettoniche. La giornata ha soprattutto lo scopo di prendere visione dell'attuale situazione del centro storico di Castelnuovo. Per questo dunque la domenica non è affatto fine a se stessa. No, assolutamente non è fine a se stessa, anzi è il primo passo verso una Castelnuovo accessibile. Infatti i filmati che documenteranno gli itinerari fatti dai ragazzi disabili domenica verranno utilizzati dai nostri tecnici per trovare soluzioni più adeguate all'abbattimento delle barriere architettoniche. E poi verranno utilizzati anche in futuro per riunire tutti i sindaci dell'Unione dei Comuni in un progetto comune di Garfagnana accessibile.